Musica Lunedì 29 maggio, un buon inizio di giornata e di settimana da chi vi parla e da Donato Mignogna in regia. Prima edizione del Tg, capriamo parlando delle elezioni regionali. L'ufficio circoscrizionale elettorale ha infatti concluso le verifiche sulle liste presentate per le elezioni regionali. Il presidente Barbara Tommaso e i componenti Rossella Casillo e Emanuela Luciani alla fine hanno ammesso tutte le liste presentate con due eccezioni, fuori Forza Nuova e Democrazia Cristiana. Sono stati inoltre esclusi anche alcuni singoli candidati di altre formazioni per difetti nella documentazione presentata. Saltano dunque, almeno per ora, due candidature alla presidenza della regione alle prossime elezioni di giugno e da cinque diventano tre i nomi in corsa per la carica di governatore. Roberto Gravina per il centro-sinistra, Francesco Roberti per il centro-destra e Emilio Izzo per il movimento Io non voto i soliti noti. I legali di Forza Nuova e Democrazia Cristiana intanto valutano se presentare o meno il ricorso contro l'esclusione. Al momento, con le esclusioni decise in tribunale, sono 14 le liste in corsa, 7 per il centro-destra, 6 per il centro-sinistra e una per il movimento di Emilio Izzo. Cambiamo argomento, si è svolta nello stadio comunale di Venafro la non-edizione del Memorial Maria Nucci, dedicato alla ragazza scomparsa prematuramente. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto all'associazione Davide Ciavattini che da anni sostiene i bambini malati e le loro famiglie. Ce ne parla in questo servizio Enrico De Simone. Allo stadio Marchese del Prete di Venafro, il ricordo di Maria Nucci, una ragazza solare, intelligente e benvoluta da tutti, scomparsa nel fiore dei suoi anni a causa di una malattia. Non ha edizione del Memorial organizzato dalla sua famiglia, un torneo di calcio tra giovani promesse dello sport, tanta commozione sul campo, la foto di Maria sorridente e felice. Suo padre Giampiero la ricorda con tanto amore. I proventi della manifestazione devoluti all'associazione Davide Ciavattini. Rispetto agli altri anni l'abbiamo fatto un po' più in grande. Sono coinvolte sei squadre, tra cui sempre il grande Napoli Calcio, poi c'è Stacasa Nuovo, noi del Venafro, Olympia e Tisernia, Futtobolo Cascarino e San Potito. Noi facciamo questo Memorial, sì per lo sport, questo sì, però la cosa che ci siamo previstati da subito era quello di aiutare un'associazione che abbiamo noi conosciuto a Roma con il ricovero di nostra figlia che poi purtroppo è venuta a mancare. Questa situazione si occupa strettamente delle famiglie che hanno problemi a sostare a Roma quando sono i figli ricoverati con questa malattia. Sono 30 anni che in seguito alla morte di mio figlio Davide abbiamo costituito questa associazione e siamo di supporto al reparto di Onquematologia del Bambino Gesù con tanti progetti. In più abbiamo una casa famiglia dove ospitiamo ad oggi 17 famiglie, tutto gratuitamente. Naturalmente veniamo con grande gioia e con grande partecipazione a questi eventi, anche se sono eventi che ricordano dei momenti tristi per le famiglie che sono state colpite da questi lupi. Noi vogliamo trasformarlo in un momento di gioia, in un momento di speranza che è in definitiva quello che è l'obiettivo della nostra associazione. Grande partecipazione, dedizione ed entusiasmo per un'altra edizione di successo del Memorial. Questo è un evento straordinario perché coniuga dei valori bellissimi che sono i valori della famiglia, dell'amicizia, dello sport, della solidarietà. Partiamo dal ricordo di una persona stupenda, di un sorriso bellissimo che è stato sottratto alla sua famiglia, ai suoi amici troppo presto, quello di Maria. Ma nel ricordo di Maria davvero ripartiamo ancora una volta per poter organizzare un'occasione di sport, di confronto ma soprattutto di solidarietà. Ed è tutto per la prima edizione del Tg, adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Partiamo da primo piano, anche qui in evidenza le prossime elezioni regionali, fuori pure la DC Molise nell'agenda dei BIG. Intanto protesta l'ex ministra Trenta ma alla lista presentata oltre il limite manca anche il collegamento col candidato presidente. Ok le formazioni di Roberti, Gravina e Izzo, già programmate le tappe di Donzelli e Conte. Intanto Rita Iacobucci firma oggi la rubrica Il Punto, il sindaco del Molise ed è un focus sulle elezioni. E torniamo, restiamo ancora sull'argomento, all'interno ci sono tutti i nomi degli aspiranti in corsa e poi la sfida vista da Palazzo San Giorgio. Cinque in gara, provano a conquistare uno scranno in via 4 novembre un assessore comunale 5 Stelle e i consiglieri del PD. Il centro-destra, terminiamo il mandato. Di spalla, notizia da Venafro, ambiente e sanità, i cittadini dicono ora basta propaganda. Più in basso, bloccato in auto in preda ad una grave crisi respiratoria, salvato dai carabinieri, notizia arriva da Campolieto. Da Termoli invece, volato in cielo a dieci anni, sarà intitolata a Manuel la palestra di via Po. Torniamo per un attimo sulla politica, si parla di Forza Italia, Fabrizio va al contrattacco, mi sono dimesso io da coordinatore provinciale di Forza Italia perché non c'è stato il rinnovamento che avevo chiesto, così dai mondo Fabrizio in corsa alle regionali con la lista padriciello. Più in basso, la Porto Cannone, ultima carrese del 2023, tutto pronto in paese. I titoli di sport, Campobasso, Rizzetta, su Mosconi, dice scelta ideale, saremo molto competitivi, dunque si parla del nuovo mister. Dai Sernia, i Pentri deludono ad Agropoli, Campani vincono con un secco 2-0. Infine il basket, la New Fortitudo, brinda alla promozione in Serie B interregionale. Alcuni quotidiani telematici, partiamo con Controvento, che fa vedere questa bellissima immagine di questa grande mega frittata. Dunque siamo a Montaquila, successo a 1982 uova per la sagra della frittata, l'articolo lo firma Claudio Iade Marco. La tradizione si ripete come ogni anno nel paese dell'area della Valle del Volturno. Quest'anno il record raggiunge 1982 uova, l'anno della terza vittoria dell'Italia ai mondiali e dell'avvio di questa importantissima sagra. La facciamo ancora vedere questa mega frittata. Da Controvento passiamo a Is News, che si occupa di crisi demografica e aree interne, sfide e soluzioni per Isernia. Uno sguardo critico al fenomeno dello spopolamento, con le proposte di ricerca della Fondazione Magna Carta, cioè tutelare il welfare, rendere più dinamico il mercato del lavoro, rimettendo in moto l'ascensore sociale e affrontare le grandi questioni legate alla gestione della terza età. L'articolo porta la firma di Leonardo Accardi. I quotidiani nazionali, qui il tema prevalente di oggi è il PNRR. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola così in apertura, l'ite sul PNRR, l'Europa apre. Dunque, l'opposizione attacca, l'Unione Europea parla di dialogo con Roma, interviene il Ministro Tagliani, non perderemo i fondi. Leggiamo ancora sul Corriere, reddito di cittadinanza, le domande giù del 25%. Oggi si chiudono i ballottaggi nelle città, affluenza in calo. Dunque, questa è la sintesi della giornata di oggi. Dagli esteri, la Turchia sceglie ancora Erdogan altri 5 anni. Grande foto, a centro pagina, il trionfo di Roglic in rosa, premiato da Mattarella. E chiaramente è il Giro d'Italia. Passiamo a Repubblica. Giù le mani dai giudici. Lo scontro sul PNRR. Dopo l'attacco del governo alla Corte dei Conti, il Procuratore Generale Canale replica e dice che siamo un presidio di democrazia, ma il sottosegretario Freni rilancia. Dice, cambiamo il controllo sulle spese, meglio l'Europa. Bonino ha aggredito lo Stato di diritto. Ancora reggiamo su Repubblica. Fratelli d'Italia in trincea, la fiamma nel simbolo resta. Weber intanto in missione a Roma. Di spada la Turchia sceglie di nuovo Erdogan. Poi su Repubblica questa foto. Il Canal Grande, verde, è un mistero. Sorpresa a Venezia. Gli ecoattivisti non è responsabilità nostra. Sembra appunto nelle ultime ore sia venuta fuori una situazione che è un liquido che per tracciare le perdite di acqua. Vedremo se sarà confermata questa notizia. La stampa, anche qui, Corte dei Conti, meno poteri, un attacco alla democrazia. C'è un'intervista al Procuratore Generale Canale che dice C'è disagio, noi tuteliamo i cittadini. Di spalla il sultano Erdogan è di nuovo sul trono. Ora si apre il secolo della mia Turchia. Due foto a centropagina. Venezia sfregiata. Un'enorme chiazza fosforescente sul Canal Grande. Invece si parla anche della strage del lago. Tromba d'aria sul lago Maggiore. Due morti e due dispersi. Questo è il bilancio della tragedia di ieri. Andiamo a vedere l'apertura del Fatto Quotidiano. Si occupa di un argomento che verrà trattato al report. 6.000 euro al mese dalla lobbista per parlare con il ministro Urso. Dunque, Carmine Zizza è di casa al ministero, ma non risulta sul sito. Il fatto ricorda che se ne parlerà stasera al report. Ancora, in basso, c'è un approfondimento. Don Milani era solo dei suoi poveri. La Chiesa lo trattò da eretico, ma era un profeta, scrive il quotidiano di Marco Travaglio. Messaggero anche qui il PNRR. Braccio di ferro con l'Unione Europea. Il messaggio del governo italiano a Bruxelles. Non accettiamo tagli ai nostri fondi. Tanto modifiche entro agosto. Il ministro degli esseri italiani. Utilizzeremo tutti i soldi. Parla anche Bonomi. Recovery da ricalibrare. Di taglio centrale strage sulle strade. E l'Umbria piange la morte di quattro giovani. Una domenica tragica. Dieci vittime in tutta Italia. A Perugia la fine di Ana bullizzata un anno fa. Proseguiamo con Libero. Si scrive così, si parla dello scherzetto di Tridico. Vediamo un po'. Beffa sulle pensioni, conti da rifare. Somme erogate in eccesso su reversibilità e assegno unico. Il presidente uscente ordina i controlli e chiede indietro i soldi. Dunque ecco spiegato che cosa significa lo scherzetto di Tridico. Anche qui lo sfregio di Venezia, colorante nei canali, sospetti sugli ultraverdi che comunque hanno negato. L'informazione economica e finanziaria con il sole 24 ore. Come ogni lunedì si occupa di argomenti specifici con degli approfondimenti. In particolare oggi il Festival dell'Economia. A Siena, Ravenna e Trento benessere al top per fasce d'età. Le tre province sono rispettivamente prime per la qualità della vita di bambini, giovani e anziani. Poi per in basso alluvione e quanto vale lo stop alle ritenute. Un focus sul decreto Emilia. Impatto medio di 400 euro al mese fino ad agosto. A novembre la restituzione. Dal sole 24 ore al secolo d'Italia. Meloni porterò l'Italia nella Terza Repubblica. L'editoriale ha la firma di Carlo Marini. Che riprende un lead e un virgolettato. Abbiamo preso un impegno chiaro con il popolo italiano. E intendiamo rispettarlo. Più in basso si parla di Lucia Annunziata. Si è dimessa. Anzi no. Resto altre quattro puntate. Lo sport. Euro diavolo. Titola la gazzetta. Il Milan con Giroud. Affonda la Juve e va in Champions. Pioli fa festa ma avverte. Se vogliamo competere bisogna rinforzare la rosa. I bianconeri fischiati. Allegri. Noi terzi sul campo. E in alto. Giro d'Italia. Il trionfo di Roglic. Rosa d'Italia. Festa di popolo per il re del giro. Premiato a Roma dal presidente Mattarella. Cairo dice. Corsa straordinaria. Vedete dove finisce la Formula 1. In basso. Il Gran Premio di Monte Carlo. Verstappen principesco. Leclerc. È andata male. È andata male per l'ennesima volta alla scuderia Ferrari. Vediamo le notizie dell'Abruzzo. Con il centro. Morti in montagna. Oggi l'addio. Pescara sotto shock dopo la tragedia di sabato sul Gran Sasso. In giornata l'ultimo saluto a Camplone e Toro. Parla la madre di Gianluca. Dalla cima mi ha scritto. Era felice. Gli amici di Raffaello. Era una guida esperta. Grande foto. Ombrelloni. Lettini e palme. Ecco i prezzi dell'estate in Abruzzo. L'indagine sugli aumenti nelle località della costa. Più in basso. Violenza sessuale. Condannato a sei anni. Un pescarese avrebbe abusato di una quattordicenne. Dopo la festa a casa della madre. E infine. Un paese con il terrore del lupo. Il caso Atessa. Altri cani sbranati. Qui si vive nella paura. Hanno detto in tanti. Le pagine locali. Nel centro. L'apertura come vediamo è la stessa. Anche la notizia di taglio centrale. Siamo nell'area di Teramo. Rischia il pestaggio dopo uno scippo. Si impossessa della borsa. E siamo a Teramo. E viene inseguito dai passanti. Un poliziotto lo salva. Escursionista di Sulmona. Muore a 49 anni per un malore. Poi di taglio basso. Lavori in tribunale e protesta. No al trasloco. Gli interventi si possono fare anche di notte. Passiamo adesso alla pagina. Si occupa dell'area di Chieti, Lanciano e Vasto. In alto, pestato a 14 anni. Ore contate per i bulli. Si stringe il cerchio intorno ai due autori dell'aggressione a Chieti. Diventata virale sui social. Poi c'è anche quest'altra notizia. Schianto in auto, feriti due fratellini. La notizia arriva da Atessa. In ospedale, bimbi di uno e otto anni. La mamma, un altro conducente. La mamma e l'altra conducente. Il leso, il papà. Passiamo adesso alla pagina. Si occupa delle notizie che arrivano dall'Aquila, Vezzano e Sulmona. Andiamo a vedere più in basso. Notte bianca. Musica e negozi aperti. Il primo giugno l'evento all'Aquila. E tornano quattro appuntamenti con i venerdì in centro. Taglio basso. Show di aerei e alianti per 5.000. La manifestazione all'Aquila. Ora il comune ripensa al futuro dell'aeroporto di Preturo. La pagina regionale del messaggero. L'addio agli amici alpinisti e il titolo d'apertura. Tragedia sul Gran Sasso. Oggi a Villa Raspa e Pescara. I funerali di Toro e Camplone. I genitori di Gianluca. Ha fatto la morte che voleva. Avviata un'inchiesta da parte della Procura. Parla anche dello sport. Il calcio. Pescara. Fa la voce grossa. Il patron si coccola. Raffia. Serie C. Mercoledì a Chiavari. Di Taglio Centrale. Pubblica il numero della ex sulla chat di incontri hard. Notizia che arriva da Giulia Nova. La vendetta del fidanzato lasciato. Il giovane però è finito. Ha processo. Bene. Con questa notizia terminiamo la rassegna stampa. Ma prima dei saluti finali la linea alla regia e alla redazione sportiva per gli E-Rights. Il Carovilli si impone a valanga sul Morcone per 7 a 2 garantendosi la possibilità di conquistare la zona playoff nell'ultimo turno di campionato. Sono però gli ospiti a passare in vantaggio al quindicesimo con Longo che ribadisce in rete una corta respinta di pallotta sul doppio tentativo di Traorì. Il pari del Carovilli arriva al ventiduesimo con questa incursione di Cristian Berardi che tocca di giustezza in diagonale quel tanto che basta 1 a 1. Al quarantunesimo i padroni di casa completano la rimonda con Lorenzo Rossi che incrocia bene in aria ben servito da Antonelli per il 2 a 1. Al quarantaquattresimo Cristian Berardi va in percussione lasciando sul posto i difensori ospiti e firma il 3 a 1 in favore del Carovilli con cui si chiude anche il primo tempo. Nella ripresa Thomas Berardi al quindicesimo firma il 4 a 1 direttamente sul calcio di punizione. Un minuto dopo però il Morcone reagisce ancora con Longo di che di prepotenza riesce a ridurre le distanze sul 2 a 4. Il Carovilli al ventiduesimo va ancora a segno e questa volta ci pensa Lorenzo Rossi con questo esterno volante delizioso firmando il 5 a 2. Al trentunesimo tocca a Thomas Berardi timbrare il cartellino per la sesta volta trasformando un calcio di rigore concesso dall'arbitro De Lucia di Sena per questo intervento di Narciso su Cristian Berardi. Trasformazione impeccabile ed è 6 a 2 Carovilli. Al 44esimo l'ultima perla la regala ancora Cristian Berardi piazzato nell'angolo lontano e 7 a 2 finale ad un Morcone che comunque è già proiettata la prossima stagione per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Alla ventiduesimo della ripresa Luca Centracchio Bucarongione per l'1 a 0 in favore della Volturnia il numero 7 si replica al trentacinquesimo direttamente da calcio di punizione 2 a 0 e al trentottesimo Gargiulo su calcio di rigore per il definitivo 2 a 1 tra la Volturnia ed il Pozzilli. Il Riccia vince a Sera Capriola anche nella penultima giornata del campionato di prima categoria in vantaggio i pugliesi al secondo il cross di Papa sulla corsia di sinistra per la testa vincente di Corropoli che trova il gol del vantaggio. Il pareggio del Riccia arriva al trentaduesimo sulla sinistra di Criscio va al primo tentativo alla ribattuta del portiere Castelnuovo. Cefaratti non riesce ad arrivare al tapin vincente arriva però invece Ruggero che riesce a realizzare il gol del pareggio dell'1 a 1. Otto giri di rancette più tardi e Riccia mette frecce quindi il sorpasso e Ruggero che costruisce dalla destra il cross per Cefaratti che scarica in fondo al sacco il gol del 2 a 1. Nel secondo tempo trova subito il Tris il Riccia azione personale di di Criscio al quinto di forza entra in area di rigore e va a realizzare il gol del 3 a 1. Nel finale la sconfitta della Frentania, la vittoria del Riccia viene resa meno amara dal rigore decretato dal direttore di gara con la trasformazione di Pino Troiano il rigore del 3 a 2. Il gol che tra l'altro è anche l'ultimo per Pino Troiano che dà l'addio con questa partita al calcio giocato. Alla pinto la Chaminade buss ospita il Machiavar Fortore. Vediamo gli alez del match, trentesimo presutti con questo tocco morbido batte Paolucci 1 a 0. 2 a 0 che arriva al primo minuto del secondo tempo con Kassim Bravo Di Piatto a battere il portiere servito da Palladino. 2 a 0. Minuto 30 dal discreto Cocca lo accorcia per gli ospiti 2 a 1. Finisce qui Chaminade Busso batte Machiavar Fortore 2 a 1. Il guardia Alfiera batte 4 a 2 il Sant'Angelo Limosano e lo aggancia al quinto posto in classifica a quota 50 punti. Ospiti avanti al nono con Delia. Il raddoppio porta la firma di Minotti al minuto 30. Il guardia Alfiera accorcia le distanze con Giuseppe Greco al trentanovesimo. Nella ripresa i locali completano la rimonta grazie a Pietracupa che al decimo firma il 2 a 2. Nove minuti dopo è Giuseppe Greco con la sua personale doppietta a portare avanti il guardia Alfiera che in pieno recupero al quarantanovesimo firma anche il 4 a 2 con l'autorete di Donatone. Adesso è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.